L'impegno anti-racket, la ribellione alla mafia, il coraggio e la voglia di cambiare dei gelesi raccontati in un film girato e interpretato da gelesi. Il primo Ciac è stato dato ieri, grande entusiasmo e interesse per un cortometraggio che andrà nelle scuole e parteciperà ai concorsi nazionali e internazionali, particolari in questo servizio di Franco in Forna. Scena 2, Ciac 31. Siamo nella villetta di Macchitella sul set del film dal titolo provvisorio MUAFA, ovvero Mafia, Ceneri di Uomini. Un cortometraggio di 20 minuti voluto dalla locale associazione anti-racket Gaetano Giordano che affronta il problema della morsa criminale dell'estorsione in danno dell'economia di Gela. Perché Ceneri di Uomini? È un chiaro riferimento a ciò che succede nel film in quanto il protagonista si ritrova a prendere in gestione questo lido e decide di non pagare e il lido fa la fine che poi tutti possiamo intuire. Protagonista del film, dicevamo, è un giovane di Gela. Mi chiamo Matteo Libertà e interpreto il ruolo di Niccolò nel film. Al suo fianco una delle poche attrici non locali nel ruolo di Pamela. Io sono la fidanzata di Matteo, quindi di Niccolò, del personaggio di Niccolò e come devo dire è un ruolo carino, nel senso che è un ruolo di supporto e la cosa bella... Quella che infonde coraggio? Quella che infonde coraggio e all'inizio quando abbiamo iniziato a lavorare con Matteo appunto lui mi ha spiegato che anche nella mafia c'è un ruolo della donna che è un ruolo di supporto e quindi ci piaceva questo parallelo sul... Mafia-antimafia. Mafia-antimafia, sì. A Francesco Barone, vicepresidente dell'Antiracket, abbiamo chiesto il perché di questa iniziativa. Noi andiamo normalmente in giro per le scuole a diffondere la cultura della legalità e lo facciamo con dei filmati che ho costruito io che riguardano un po' la memoria, quindi da Falcone, Borsellino, Don Pino Puglisi. Ci è sembrato carino invece pensare a un film che riguardasse proprio la nostra città, che riguardasse i giovani della nostra città. Devo dire che con Ottavio c'è stata un'intesa immediata. Ma l'associazione Antiracket non si ferma qui. Un film non è altro che la continuità del progetto che stiamo portando avanti ormai da due anni, qualcosa in cui crediamo fortemente e che cioè la crescita di questo paese deve venire dalla base, dai bambini, dalle scuole elementari, le scuole medie. Questo non è altro che uno strumento sicuramente valido e speriamo e sono sicuro che abbia molto successo. Questo film si fermerà a Gela o andrà oltre? Assolutamente no, è il nostro interesse farlo girare sia per tutta la Sicilia, tutta la regione e inoltre per i numerosissimi concorsi nazionali di cortometraggi perché appunto sia per il valore del film sia perché ci interessa portare in giro le nostre idee riguardo a quello che a Gela potrebbe cambiare.